Allora questo invece sarebbe? Takatursa. Ah questa è venuta da te allora. Questa è venuta da me, Luca l'ha portata qua. E questa è una cavallina interessante. E' interessante sì, a me piace tanto. E' andata molto bene. Sì, sì, sì. Stavo dicendo Luca me l'ha portata qua, è alla ricerca di un proprietario, la sta vendendo, Luca. E secondo me è una cavallina interessante. Per il circuito del Paglio. E anche lei si sta facendo un po' vedere che corse può fare. Se ne farà una per rientrare, poi il circuito di piazza, Monticiano, Mociano. E questa la lasci per quello? Sì, 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 sì. Poi anche questa se c'è qualche altro pagliotto da poterlo fare si fa volentieri. Questa non andò male per niente. No, però sta bene. Qui c'era forse a Monticiano anno scorso. Sì, la vinta è poi arrivata seconda. Sì, sì. Anno scorso era proprio arrivata a maturità, no? Sì, 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 sì. Poi se non sbaglio non è stata presentata dall'agosto, non me lo ricordo. Ma un minuto del minuto, mi dice, poi poi mettiamo la scheda. Ma non mi devo forse perché se l'ha fatto male lui non la portò. Sì, sì, anche a me sembra così. Sennò la cavalina è positiva, ecco. È sana, è bella, tranquilla. Ma poi il piazza ci andava bene. Sì, sì. È una di quelle che non fa... che non dà pensieri. No, 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 sta brava il canapo, è una cavalla positiva. Benissimo. Tagatuzza.